Ragazzi ci siamo, allora calciatori brutti, firma la maglia che può scendere in campo, la prima volta è per una community, sensazioni Ma diciamo che non vediamo l'ora di vederla in campo ma anche sulle bancarelle perché poi è quello che ci piace Ma sai che forse è più bella nelle banche? No, non si può dire, non si può dire, non si può dire No però la cosa bella è che abbiamo scelto la partita più facile È vero, il Parma perché ci piace partire facile, non metterci in difficoltà da soli Poi avessimo fatto con una squadra medio piccola i tre punti sarebbe anche andato un po' a scemare la squadra Le stucchevole Ma io ho già calcolato che sabato andiamo a fare tre punti in scioltezza La squadra si sta allenando bene, ci stiamo... In dove si vede l'inquadratura perché io vorrei un attimo... Ragazzi stiamo giocando bene, i risultati stanno arrivando, la stagione è ancora lunga, il mister ci crede Sembra uno della squadra ormai, è già nella parte Ragazzi quindi è la prima volta per una community, questa è veramente... possiamo dire che inizialmente sembrava un'idea un po' folle Però sono quelle che poi ripagano... Ancora non ci credo che abbiamo fatto una cosa che, o al meglio, io non mi ricordo una community che costruisce la maglia per una squadra professionistica Facendola diventare un po' la seconda squadra degli... diciamo troppo... Che poi... La seconda squadra degli italiani Quello che dico io è che partono così cose buttate un po' e poi si trasformano in cose gigantesche che... cioè che noi partiamo sempre dalla nostra cameretta Arriviamo a queste cose, non ci crediamo, non ci crediamo, è un percorso in mezzo Posso dire, è un po' la storia della nostra vita questa, che siamo partiti giocando e siamo diventati questo, purtroppo Sì, infatti, si poteva far meglio È un messaggio importante anche perché è la prima volta, è la prima volta appunto che c'è una community che partecipa È un nuovo modo di comunicare lo sport, però questo potrebbe essere anche la prepista per chissà cosa Un sacco di soldi... no, 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 non lo sappiamo, però è... Siamo i pionieri, possiamo dire Esatto, siamo i primi ad aver fatto questa cosa qua, a noi ci piace questo discorso di essere i primi a fare qualcosa Abbiamo portato per primi 2000 italiani a Leicester Anche perché a Leicester chi che ci porta, anche solo la fidanzata E abbiamo fatto... cos'altro abbiamo fatto per primi? Siamo andati... siamo stati la prima community in un programma sportivo, a quelli che è il calcio Un po' di anni fa e adesso siamo i primi a costruire una maglia da calcio Mettiamo bandierine Mettiamo bandierine, che altri toglieranno, ma mettiamo bandierine Noi le mettiamo, poi se ce le tolgono è andata così Quindi il suggerimento è acquistatela perché il link è già attivo ovviamente Acquistatele e poi forza Feralpi Salò Forza Feralpi Salò e acquistatela Acquistatela Forza Feralpi Salò